Vi porgiamo i nostri migliori auguri di Natale perché questa festa porti nel cuore di tutti i cristiani gioia, serenità e pace. È il messaggio consegnato dalla comunità musulmana di Sansepolcro al parroco della concattedrale Monsignor Giancarlo Rapaccini. Abbiamo deciso di scrivere questa lettera alla comunità cristiana per ricambiare l'attenzione che abbiamo ricevuto in occasione del Ramadan. Per noi quello è stato un gesto commovente, spiega Berraim Elmutaki, responsabile dell'associazione Al-Amal Speranza di Sansepolcro. La consegna della lettera è avvenuta durante l'iniziativa Un tè con le amiche, organizzata dall'associazione Il Timone, rivolta a donne italiane e straniere residenti in Valtiberina con l'obiettivo di creare reti di conoscenza e amicizia. Questi momenti di crisi fra le comunità, non dico cristiani ma internazionali, questi incontri e il dialogo fra la civiltà, dobbiamo dare una spinta a questo dialogo perché l'altro conoscerla, dobbiamo conoscere e quindi l'unico modo è questi incontri. La preghiera e l'amore allontanino l'odio, la violenza e il terrorismo da ognuno di noi e facciano sì che cristiani e musulmani percorrano assieme la strada della vita con la propria religione, cultura e tradizione, si legge nella lettera. È fondamentale che la nostra comunità e la vostra collaborino e condividano assieme percorsi di vita, nel lavoro, nella scuola, nel tempo libero, senza discriminazioni e con progetti di convivenza fraterna. Il testo sarà letto nella concattedrale Biturgenze la notte di Natale. Abbiamo tutto l'interesse a creare un rapporto di grande attenzione e rispetto per le persone che vengono dal di fuori, proprio per una pacifica convivenza all'interno della nostra città.